La bellezza, in questo momento sospeso e solitario, la trovo nella riflessione. Pensando e ripensando ho capito che è tutto incontrollabile, fuggente. Non si può decidere niente, né un gesto, contatto, legame umano. Oggi ci siamo e domani, chissà. Cosa voglio fare appena sarò libera? Riabbracciare e baciare tutti i miei cari parenti ed amici. Perché? In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. In un mondo che prigioniero è. La 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 la. Grazie. 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 Grazie.